Ciao a tutti, siamo al Centro Suloc con Francesco Centarrì, diploma dal Conservatorio in Canto Jazz. E proprio qui terrà ogni martedì pomeriggio un corso di canto jazz e canto moderno. A chi è rivolto un corso di canto, Francesco? A quanti sono interessati ad una preparazione musicale completa? Il Lush Lock fornisce una preparazione musicale necessaria attraverso i pre-accademici per accedere ai conservatori che dagli ultimi anni hanno dato possibilità al canto jazz di essere introdotti all'interno della didattica. Cos'è un corso pre-accademico? Spieghiamolo a chi non lo sa. È una preparazione completa per riuscire ad accedere alle prove di ammissione dei conservatori, per cui una preparazione di tipo musicale notevole, importante. Quindi rivolto a chi comunque volesse andare oltre, non fermarsi soltanto a semplice canto, quindi anche studiare e andare oltre. Esatto, parliamo di conservatori inteso come Università della Musica, per cui è il percorso di un titolo più completo. Tu ogni martedì sarai qui a Centrocelocca. Esatto. Cosa faranno gli allievi? Un esempio pratico quando vengono qui da te? Nel caso del canto jazz inizieremo con il conoscere il palcoscenico musicale jazzista, per cui con il repertorio, l'esecuzione di brani in stile jazz e lo scat, che è l'improvvisazione vocale attraverso cui un cantante può emulare uno strumentista. È molto interessante e soprattutto richiede uno studio musicale notevole. Quindi è uno degli studi più completi, che danno la formazione più completa a chi vuole andare verso una carriera da cantante. Esatto. Francesco, oltre a studiare comunque anche l'utilizzo della voce, spiegherai anche, credo, se non ho capito male, anche come si sta su un palco? Esatto. Ad esempio, nel caso delle lezioni del canto moderno, mi occuperò dell'aspetto tecnico, vocale, il saper cantare bene che è fondamentale, l'interpretazione, che richiede un approccio di tipo analitico, e dal punto di vista interpretativo e dal punto di vista testuale, è la performance, per cui stare sul palco, gestire il microfono, la gestualità legata all'interpretazione. Quindi per chi volesse maggiori informazioni, può trovare Francesco tutti i martedì pomeriggio, il mio 18 ottobre 114, al centro Asceloc. Esatto. Grazie Francesco. Grazie a te. Grazie a te.